Ciao, mi chiamo Luca, ho 38 anni e una delle battaglie che sto combattendo da tanto tempo e che sento di stare vincendo è quello di liberazione dal giudizio altrui. Liberazione dai like, dai commenti, dai dislike, dal numero di iscritti. Liberazione dal fare cose improntato all'idea di compiacere un pubblico o i genitori o la ragazza o qualsiasi altro, cercare di sentire la mia bussola interna dove va, cioè sentire cos'è che io voglio fare veramente. Magari se sei un iscritto da lungo tempo su questo canale avrai notato che io non pubblico più video di fotografia, tutorial, viaggi, tutto quello che avevo iniziato l'ho interrotto perché non mi andava più di farlo. Anche su Instagram ho smesso di fare foto a clienti di moda e di ritratti, anche perché anche questa è un'attività che è venuto fuori che non mi piaceva più, non mi andava più di fare. Ho appena terminato quest'anno un lavoro part-time in ufficio che portava avanti da tantissimo tempo, era pagato bene, ma non mi piaceva più. Ho deciso di puntare su me stesso, sulle cose che mi piace fare. Sono fortunato, posso permettermelo e può essere che nei prossimi video, se mi andrà, ti racconterò. Ad esempio magari ti stai chiedendo cos'è tutto questo casino alle tue spalle. Questo casino alle mie spalle è l'inventario che vendo su Amazon. Quest'anno ho avuto la soddisfazione di vendere più di 80 mila euro di prodotti su Amazon. Questo non vuol dire che ho guadagnato 80 mila euro, non ho guadagnati neanche il 10 per cento probabilmente, perché come vedrai magari in un video che farò per spiegare come funziona, i costi legati all'attività su Amazon sono molto alti, sono soldi che escono soldi, soldi che entrano rapidamente. Quello che investi ti ritorna velocemente, ma poi lo devi anche reinvestire velocemente, quindi così. E l'altra cosa che invece potrebbe essere una buona notizia è che ho deciso di iniziare a fare video un po' così, un po' rilassati, per raccontare un po' quello che mi passa per la testa, una sorta di diario. Però cercherò di dare un tema, non sarà mai un blog del tipo ragazzi oggi ho comprato le uova, stasera ho fatto la frittata, no? Che palle, no? Voglio parlare di cose serie. L'argomento di oggi infatti è appunto legato a questo desiderio di approvazione da cui sento di essermi quasi del tutto liberato. In questo percorso che è durato a lungo mi sono interrogato, mi sono detto ma dov'è che è iniziato tutto ciò? Quando io ho iniziato a desiderare l'approvazione di qualcuno? Tutto è iniziato dalla scuola. Quando io a scuola prendevo un voto per un'interrogazione, un compito in classe, tornavo a casa e ero eccitato. Se avevo preso un bel voto ero contento perché mi pregustavo il sorriso, i complimenti prima di mia madre e poi dopo che mi veniva a prendere e poi anche di mio padre che tornava più tardi dal lavoro in ufficio. E quindi dicevo, oh, indovina, indovina quanto ho preso nel compito di matematica. Mia mamma, che è una santa, mi dava soddisfazione. Quindi anche se lei magari pensava, boh, avrà preso otto, diceva, hai preso sei più? No mamma, di più, di più! Hai preso sette? No mamma, di più, ho preso di più! Dai, non ci credo, ho preso più di sette! Sì, sì, mamma, ho preso più di sette! Sette e mezzo! No mamma, ho preso otto! Che bravo, hai preso otto! E poi dopo la stessa recita, un po' meno bella, si avveniva con mio padre, e dicevo, papà, indovina quanto ho preso in matematica? Dai, quanto hai preso, non mi far perdere tempo! Otto! Bravo! Cercavo questa approvazione e allo stesso modo ero terrorizzato dal deludere. Quando io prendevo un brutto voto e la prima cosa che pensavo era adesso a casa, come lo dico, non mi è mai passato per la testa durante tutti gli anni di scuola, durante i tredici anni di... ma no anche di più, cioè dai cinque ai... alla fine dell'università, dai 5 ai 24, non mi è mai passato per la testa più di tanto interrogarmi se io ero deluso di me stesso, o cosa... se mi sentivo stupido, se mi sentivo intelligente, no? Il mio pensiero immediato era, ah, come lo dico a casa, oppure, ah, a casa saranno contenti. Anche a te che è capitato così? Cioè di pensare che tutto ciò, tutti i voti, tutta la scuola fosse improntata a farti ottenere un'approvazione nella tua famiglia da un genitore? O era una cosa che facevi per te stesso. Col senno di poi ogni tanto mi è capitato di parlare con qualcuno che mi diceva, guarda, i miei genitori non gliene ferga niente. Oppure quando mi dicevano, se prendo un bel voto e lo dico a casa, mi rispondono, hai solo fatto il tuo dovere. E mi sono detto, forse sarebbe stato meglio a lunga distanza essere educato in questa maniera. No, no, credo che sarebbe stato inutilmente doloroso e crudele. Se io fossi genitore, come mi comporterei oggi nei confronti di un figlio? Perché lo scopo, penso che sia fare in modo che la persona che studia e che prende un voto, che segue la materia, che va a scuola, qualsiasi cosa, si renda conto che lui deve essere orgoglioso di se stesso. Cioè questa approvazione non la devi cercare fuori, la devi cercare dentro di te. Beh, se un domani mio figlio tornasse a casa e mi dicesse, papà, indovina cos'hai preso in matematica? Ovviamente io cercherò di dargli un po' soddisfazione, di farlo contento, ma nel corso degli anni man mano lui cresce, cioè ovviamente all'alimentare non puoi fare il discorso di chissà a quale livello, però magari verso il liceo puoi iniziare a dirgli caro figlio, io sono contento che tu vada bene a scuola e questa è una cosa importante, ma mi piacerebbe che tu, più che la mia approvazione, cercassi la tua, cercassi di capire se questo risultato che ho ottenuto è qualcosa che ti rende fiero. Sei felice di te stesso? Perché questa soddisfazione tu devi imparare a trovarla dentro di te, perché altrimenti quando la scuola sarà finita tu andrai avanti a cercare l'approvazione del tuo capo o ancora magari di me o di qualcun altro, mentre per poter veramente seguire la tua strada dovrai arrivare a un punto in cui sarai tu giudice di te stesso e basta. E questa è una cosa che io ci ho messo veramente tanto, tanto a capire. Anche quando in anni recenti sono passato a fare magari video su YouTube, come sapete, o Instagram a cercare di migliorarmi nelle foto, il feedback, l'approvazione degli altri ha giocato un ruolo importante per un lungo periodo. Poi anche da lì mi ha aiutato la fotografia molto perché mentre all'inizio magari quando editavo una foto la facevo vedere e raccoglievo i feedback, magari mi dicevano ma questa foto magari la dovresti fare in bianco e nero oppure dovresti, non lo so, usare un effetto diverso, non mi piacciono i colori. E io correggevo sempre il tiro in base alle opinioni di Pinco Pallino di turno cercando di modificarle e chiedere ecco così ti piace, così è meglio. Sì meglio, però a un certo punto come fai? Cioè devi ascoltare l'opinione di 200 persone, no? A un certo punto con tutto rispetto, fanculo tutti, faccio quello che piace a me, cioè la edito come piace a me. E mentre pensavo di fare questo video mi sono detto beh allora Luca se non sei un ipocrita togli da sotto il video la possibilità di mettere like o dislike perché se dici che fai un video per te stesso, che rende felice te e poi lasci la possibilità agli altri di mettere like o dislike vuol dire che bene o male ti interessa l'approvazione degli altri. No, cioè in realtà ovviamente non è che mi metto a fare i salti di gioia se adesso vedo questo video, è pieno di pollici verso il basso, cioè non sono mica un masochista ma ma non mi tocca più di tanto. Il fatto di confidare questi pensieri personali mi porta anche al desiderio di capire se sono solo io stato vittima per tutti gli anni della scuola del desiderio di approvazione altrui e se tutti gli altri magari voi ve ne siete sempre fregati. Mi piacerebbe capire se questa cosa è condivisa o no. Per arrivare diciamo a una conclusione negli ultimi anni io mi confido ancora molto con mio padre, gli racconto un sacco di cose, è comunque una figura importante di riferimento che ho sempre visto come molto solida e appunto forse la cosa che mi ha sempre portato a cercare la sua approvazione è il fatto che io ho sempre visto mio padre come una persona che non era minimamente interessata all'approvazione altrui. Cioè guardate il paradosso, io cerco l'approvazione di qualcuno che è disinteressato dell'approvazione altrui. Quindi se io veramente provo una sorta di ammirazione, la cosa che avrei dovuto portare a casa più di tutte quante è capire che se veramente vuoi essere una figura di riferimento a un certo punto devi andare per la tua strada, devi pensare che cazzo me ne fotte di cosa dicono gli altri, cosa pensano gli altri. E quindi questo è. Io non ci sono ancora arrivato al 100%, credo di esserci arrivato al 95%. Quindi mantengo questa, sto creando questa corazza, ancora a volte vacillo, mi faccio scalfire magari, però il fatto di averne preso coscienza, di aver capito anche tutto da dove è nato, è stato positivo, è stato positivo, mi ha fatto bene, bene. Quindi non ti iscrivere al canale, scherzo, fai quello che ti senti.